esistono ricambi che rasentano l'introvabile questo è uno dei ricambi che forse oltrepassano l'introvabile perché è la mascherina di una sunbeam tra l'altro in ottime condizioni bisogna semplicemente verniciare la parte qui che era argentata ma non troppo era satinata come vedete ma la plastica è perfetta 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 non ha neanche neanche un punto di rottura che sia uno è semplicemente perfetta tutto in ottime trovarne e come trovare sacro real praticamente non ce ne sono non ce ne sono se non se non se non sugli antarmi d'italia